E con noi l'allenatore del Borradenska, Andrea Mura. Andrea, finalmente vi siete tolti, vi siete scrollati di dosso, quello zero in classifica. Prima vittoria a Casalinga. Qual è stato il momento clou della partita? Secondo me il momento più importante è stato quando nell'ultimo quarto, nel massimo della difficoltà, siamo riusciti a rimanere aggrappati con i denti alla partita e poi a portarla fino agli ultimi minuti dove abbiamo giocato, secondo me, in attacco con grande lucidità. Abbiamo trovato dei buoni tiri e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria che per noi è assolutamente fondamentale. Nei primi due quarti sempre avanti, peccato per il terzo quarto, dove avete avuto un po' di problemi in attacco. Sì, loro hanno stretto i denti in difesa, hanno chiuso Subabic che nel primo tempo era stato decisivo e poi noi abbiamo fermato la palla in attacco, non abbiamo più mosso il pallone come abbiamo fatto nei primi due quarti e lì con qualche tiro affrettato abbiamo permesso loro di rientrare in partita.